Con la decisione di poste italiane, quindi con il taglio dei voli di Mistral Air notturni, quali rischi effettivi corre l'aeroporto d'Abruzzo? Non ci sono automatismi e rischi diretti. C'è un dibattito a livello nazionale, dal piano passera, dal piano aeroporti, sulla limitazione, più che chiusura notturna, limitazione dei servizi notturni di molti aeroporti in Italia. Ve ne dico uno per tutti, si parla di Linate. Quindi per risparmiare sui costi c'è uno studio che sta andando avanti da un po' di tempo e che era stato portato avanti molto fortemente dal piano passera. Ma in termini economici quanto perde Pescara? In termini economici per noi la perdita del volo postale è veramente limitatissima perché i costi di far atterrare un aereo di notte sono compensati più o meno dai ricavi che ci dava la Mistral Air. E non è il presunto dualismo o concorrenza con lo scalo di Ancona a preoccupare il presidente di Saga Laureti? Non ci interessa più di tanto. Ancona è stata preferita da quasi tutti per quanto riguarda il cargo. Pescara ha superato Ancona per quanto riguarda il numero dei passeggeri, ormai dall'anno scorso. Quindi non è questo. Speriamo invece piuttosto di non dover diventare concorrenti dell'aeroporto di Preturo dell'Aquila. Chi rema contro l'aeroporto d'Abruzzo e perché? Questo non lo so, però non è giusto. A cominciare dalla regione che dovrebbe chiarire bene queste problematiche sull'aeroporto dell'Aquila e per continuare a delle persone che in qualche maniera vedono solo i difetti o le questioni più difficili calcolando che siamo in un momento difficile, in un settore difficilissimo. Per Camera di Commercio due devono essere gli obiettivi di Saga entro l'anno. Assolutamente. Gli obiettivi che noi avremo, che dovremo cercare di concludere quest'anno, come ho già detto, uno in particolare è il mercato russo perché è il mercato che in questo momento spende di più ed è quello che ha dei numeri di crescita impressionanti. Secondo obiettivo, il volo Pescara-Torino perché Fiat, così non comprendiamo bene di cosa parliamo, Fiat che investirà, come ha detto l'amministratore delegato Marchionne, nei prossimi anni circa 700 milioni di euro in Val di Sangro sulla Sevel, ha richiesto ufficialmente la regione Abruzzo, al presidente Chiodi, il volo Pescara-Torino. Per cui l'obiettivo di Saga sarà trovare un collegamento fisso perché l'unica ormai azienda importante che abbiamo sul territorio abruzzese ne ha fatto richiesta espressamente e noi dobbiamo assolutamente trovare la definizione di questo collegamento.